40 anni sono un grande successo per la Confcommercio che 40 anni fa decise che era ora di puntare a qualificare la ristorazione dell'entroterra, perché appunto gli weekend gastronomici riguardano l'entroterra della provincia di Peso Rubino. 40 anni di successo con un costante gradimento da parte dei consumatori, sono circa 12 mila le prenotazioni nei ristoranti in occasione dei weekend autunnali. Tradizionalmente la manifestazione si svolge in un'edizione primaverile e l'edizione autunnale, il quarantesimo anno gode anche del patrocinio dell'Agenzia Nazionale del Turismo, l'ENIT, del Consorzio del Prosciutto di Carpegna dopo, una delle eccellenze assolute dell'enogastronomia del nostro paese. La manifestazione autunnale inizia il 16 settembre e termina il 3 dicembre. Abbiamo 48 ristoranti che partecipano all'iniziativa e che coinvolge 29 località. Mi piace ricordare che i due punti di forza di questa manifestazione sono intanto menù molto importanti a base di prodotti del territorio e l'obbligo di vino della provincia di Peso Rubino ad un prezzo assolutamente promozionale, perché il massimo è 29 Euro ma con due piatti a base di tartufo, quindi è un prezzo che non si giustifica con la qualità dell'offerta e dei menù che vengono proposti. L'altro aspetto positivo della manifestazione è che ha saputo in 40 anni far conoscere tanti borghi, tanti paesi del nostro entroterra, paesi che normalmente erano di fuori dei circuiti turistici e che oggi invece sono meta di vacanzieri, di visitatori e di turisti tutto l'anno. Quindi è una manifestazione sia enogastronomica ma che ha anche un alto valore per il turismo del nostro entroterra. Non a caso noi abbiamo anche scelto di promuovere all'interno della guida dei weekend gastronomici anche l'itinerario della bellezza, questo è il nostro progetto che quest'anno coinvolge 21 comuni della nostra provincia e che è un progetto di grande e straordinario successo, visto le tante iniziative promozionali che facciamo in Italia e all'estero. Un modo anche per aiutare il mondo della ristorazione? Sì, il mondo della ristorazione quest'anno è un mondo in difficoltà, sia perché l'estate non è andata benissimo, abbiamo detto tante volte, a causa dell'alluvione in Emilia-Romagna, a causa dell'aumento dei costi, dell'inflazione, del costo del carburante e del costo dei mutui che sono aumentati notevolmente a seguito delle decisioni della Banca Centrale Europea, i ristoranti hanno fatto ricavi molto inferiori rispetto a quelle che erano le aspettative di primavera. Senza considerare poi che ci sono alcune località, penso tutta la Vallata del Metauro e la zona di Fano-Marotta, che hanno subito anche il danno della chiusura della Contessa, con i turisti umbri che hanno preferito andare in altre mette, in altre località marchigiane. I weekend gastronomici quindi sono un appuntamento atteso anche dai ristoranti, perché sicuramente si riempiono i ristoranti in occasione di questi appuntamenti. Ci abbiamo già una grande richiesta da parte dei consumatori che sono già venuti in questi giorni a prendere le guide, perché sanno che grossomodo la manifestazione inizia verso metà settembre e quindi molti sono già venuti a prendere le guide che sono già diffuse in molti uffici pubblici, nelle edicole, in molti ristoranti e sono ovviamente anche scaricabili dal sito di Confcommercio. Grazie a tutti.